quanto è accaduto quindi sono andato ad avviarlo in epic games come faccio sempre si avvia sempre nel launcher e mai sul desktop quindi si avvia su epic games e mi è uscito così quell'errore ovviamente se stai avendo così problemi riguardo al crash report di fortnite può essere a causa dei caricamenti sul disco o problemi di grafico ovviamente io fortnite su un m2 questo qua nvmi la m2 quella schedina dell ssd che si mette proprio nella scheda madre e quindi con quella vado anche più veloce nei caricamenti e quindi non ho problemi di questo crash report su fortnite quindi in questo caso ti consiglio anche di rimuovere fortnite dalla disc e metterlo su un ssd se non hai un ssd compra un ssd e piazzalo sul tuo computer e mettici anche fortnite quindi invece per abbassare anche la grafica sul gioco possiamo andare direttamente sul programma che ti ho lasciato in descrizione che si chiama invidia app ovviamente ci sono anche altre guide a riguardo sul crash report di fortnite che ti ho lasciato nella playlist in alto a destra vado direttamente su driver ed ecco qua fortnite il gioco non è ottimizzato ovviamente qua mi dice come valore consigliato questo ma vado direttamente a inserirlo qua sopra e faccio ottimizza modalità di rendering direct x12 noi dobbiamo avviare fortnite nella modalità direct x11 quindi vai direttamente sull'epic games vai nella libreria 3 puntini gestisci opzione di lancio schiaccia qua sopra e fai trattino di x11 una volta fatto scrivi qua sopra esegui entra nella cartella di app data quindi scrivi per cento app data per cento e fai ok app data local scendi fino giù fino a trovare così fortnite game save crashes ed eccolo qua cancella queste due cartelle vai su config crash report client e cancella da quest'altra tre cartelle e svuota anche il cestino una volta fatto se hai ancora questi problemi riguardo al crash report di fortnite entriamo così nella cartella del gioco fortnite fortnite game binaris 64 ed eccolo qua fortnite client win64 shipping mostra troppazioni proprietà compatibilità esegui il programma sempre come amministratore se hai problemi con fortnite non mettere questa spunta io la metto perché avviarlo come amministratore è importante dare anche una maggiore sicurezza anche al gioco per non avere sempre problemi su fortnite e facciamo applica e facciamo ok una volta fatto eliminare la cartella questo qua l'applicazione fortnite launcher e il fortnite client 64 e facciamo la verifica ora non ci resta che entrare nel gioco una volta fatto entra direttamente nelle impostazioni di fortnite vai su impostazioni vai su grafica modalità finestra ovviamente se non vuoi avere problemi di crash ti consiglio di bloccare gli fps e mettere la modalità finestra a schermo intero e attivare il v-sync se nella partita di fortnite superi sempre sempre 100 fps ti consiglio di impostarli su 60 fps blocchi gli fps e metti schermo intero stai certo che non avrai più problemi di crash perché hai bloccato gli fps quindi non avrai più un rialzo di sale e scendi sale e scendi e problemi con lo schermo perché anche questi sono problemi che causano il crash report e facciamo applica e mantieni le modifiche e con la grafica invece scendi fino a giù fino a trovare il post processi questo qua lo tieni alto effetti lo tieni medio texture lo tieni medio distanza visuale epico spazio sullo schermo faccio no occlusione ambientale metti no ombre no e basta per altri problemi ancora puoi guardare le altre guide che ho realizzato su fortnite come risolvere il problema dell'easy anti cheat crash report client che non si avvia e che non funziona proprio del tutto a fortnite tutto nella playlist in alto a destra grazie a tutti per questa visione noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo tutorial ciao